Come abbiamo fatto a ottenere in concessione un bene di queste dimensioni dell'Agenzia del Demanio? Bene, noi abbiamo scritto una lettera, scrivemo una lettera ormai già nove anni fa. L'allora direttore dell'Agenzia intanto ci accolse e poi ci disse, bene, prendetelo in concessione per un anno, pagate l'affitto chiaramente come associazione, lo rimettete in ordine, lo pulite e ci provate. Ci rivediamo tra un anno e mi presentate un progetto con i fiocchi e vediamo il da farsi. Noi ci siamo messi a pulire, a bonificare, abbiamo raccolto professionisti nella nostra compagine e dopo un anno ci siamo presentati con un faldone di progetto, tutti computometrici, al che l'Agenzia del Demanio ha rilasciato la concessione 19-annale. La Casa Famiglia accoglie sino a otto bambini indicati dal Tribunale dei Minori, dai servizi sociali del Comune. È un'accoglienza d'urgenza, è un'accoglienza temporanea. La Casa Famiglia La Casa Famiglia accoglie sino a otto bambini indicati dal Tribunale dei Minori, dai servizi sociali del Comune.